il mister olimpia è finito e io devo trovare qualcosa di cui parla chiaramente ha vinto samson d'auda adi chupan secondo sappiamo che a pre judging erano molto molto vicini però poi l'ha spuntata il buon samson nelle finali e da un po mi frulla in testa quest'idea che adi non piaccia tantissimo ai vertici della ipb chiaramente ha vinto l'olimpia nel 2022 meritato ci sta però tante volte si è parlato di un adi chupan che avrebbe meritato di più anche quest'anno tanta gente non è particolarmente d'accordo sulla vittoria di samson e qui vedete invece l'annunziazione di adi come vincitore nel 2022 corso allevatore di bibbia delle clansford secondo quindi questo sembrava una vittoria a furor di popolo che ha messo d'accordo un po tutti e forse in ultimi anni è l'unica vittoria che ha messo d'accordo tutti e qui c'è la routine di adi quest'anno all'olimpia quindi adi ha vinto due anni fa ha vinto l'arone classic quest'anno poi è arrivato secondo quest'anno dietro samson d'auda però è arrivato davanti a delle clansford che ha battuto l'anno scorso quindi adi fa un po su e giù ma c'è da dire che io condivido pienamente il fatto che probabilmente avrebbe dovuto vincere qualche altro olimpia da quando ha esordito alla gara più importante di tutte secondo i giudici quest'anno è un peggiorato dall'arone classic di qualche mese fa e tra poco metterò anche la routine di quella ron classic secondo me l'aspetto che è peggiorato forse lievamente la schiena il back double bicep più che il back l'aspera perché poi per il resto era granitico era come sempre più definito non il più bello da vedere chiaramente però cioè sinceramente mi fa un po strano che passi da vincere l'arnold battendo samson d'auda arrivare secondo pochi mesi di distanza e con ciò ovviamente non voglio discutere la vittoria di samson cioè ci sta mi va bene però forse sono anch'io più dell'idea che se avessi dovuto giudicare io l'olimpia avrei fatto vincere adi poi una cosa che mi è venuta in mente che chiaramente è un complotto bello e buono guardate che definizione garantata tra l'altro una posa fantastica per adi io penso che sia una delle migliori pose del bodybuilding odierno questa è la routine dell'armo di qualche mese fa quindi dicevo una cosa che mi è venuta in mente è che adi sia stato un po un cavallo di troia per far fuori big rami e voi sapete che non mi leverà nessuno dalla testa l'idea che rami sia stato fatto fuori cioè che non piaccia più che non lo vogliono in mezzo ai coglioni per un motivo o per un altro che sia il fatto che avesse fatto il pacco a pitbull che non si fosse presentato a quegli esposini famoso di due anni fa che sia qualcos'altro cioè non me lo leva dalla testa nessuno questo pensiero quindi non so se adi venga penalizzato voglia essere fatto fuori non credo fatto fuori però sono più dell'idea che non gli venga dato quello che meriterebbe perché avrebbe potuto vincere di più partendo dal suo esordio all'olimpia contro brandon kerry william bonac le vittorie di rami che secondo me non sono mai state convincenti cioè non capirò mai perché rami sia stato così pompato all'inverosimile quando ha portato negli anni un fisico più scadente c'era vittoria del 2020 2021 aveva un fisico inferiore a quello che aveva nel 2017 poi arrivato secondo di torfield ma soprattutto nel 2013 caso miglior versione come ho detto milioni di volte cercatevi il video che ho fatto che sia il miglior big rami e parlo appunto di quella sua versione vittoriosa al new york pro del 2013 quindi mentre ci vediamo il call out della finale con i quattro nomi noti del mister olimpia di quest'anno non dico che ci siano dubbi però un po' ti viene da pensare queste cose non so che ne pensiate voi non so se anche voi pensiate che ha di aver potuto vincere di più che sia penalizzato che non venga visto di buon occhio ma non parlo per il fatto che sia iraniano o che non parli inglese cioè secondo me il fatto che non parli inglese è una minchiata perché l'iraniano o il persiano o che cazzo di lingua parli il farsi scrivetelo nei commenti che sono ignorante in materia non credo che sia una questione politica secondo me è una questione che boom il fisico non piace non convince completamente tutti i giudici e per questo motivo non penso che vincerà più l'olimpia credo che un fisico come samson dauda convinca di più più completo nonostante sia meno definito forse adi ha più punti deboli tricipiti avambracci e non è particolarmente bello esteticamente la gamba destra è un po' piccola la sinistra la schiena è un po' peggiorata non lo so cioè non lo so davvero questa è la sua routine vittoriosa del 2022 quindi fatemi sapere che ne pensate anche voi se anche voi condividete che adi potrebbe vincere di più e che venga penalizzato se pensate che forse sia stato utilizzato come cavallo di troia per far fuori bigrami io penso molto a questa cosa qui io credo che sia stato l'uomo giusto al momento giusto cioè era il più definito il fisico tutto sommato più completo del clansford era un po' acerbo bigrami non era in forma adi era l'uomo giusto al momento giusto quindi facciamo vincere adi sia perché lo merita sia per far fuori bigrami però non ci piace abbastanza da mantenerlo come mister olimpia nel tempo quindi ha perso la l'anno dopo contro del clansford abbattuto samson d'auda qualche mese dopo e poi samson d'auda abbattuto adi con gli stessi giudici fondamentalmente perché steve weinberger capo giuria sia dell'olimpia che dell'arnold ha giudicato questi bodybuilder allo stesso modo credo in questo periodo di tempo di circa due annetti non penso che rivedremo la vittoria di adi all'olimpia si intende magari vincerà l'arnold però se non farà l'arnold non vedremo più adi vittorioso all'olimpia a meno che qualcuno non cagli fuori però chiaramente sono previsioni del cazzo pronostici che non servono a niente sono giusto mie idee sommate con complotti vari ed eventuali perché comunque devo parlare qualcosa per un anno sia all'olimpia o no però scrivete quello che volete correggetemi sul che lingua parla adi e ci aggiorniamo buona